Ragazzi ho avuto un problema, le nuove cuffie vengono riconosciute come doppio dispositivo audio quindi fixer non si sente perché il mio pc o meglio con action registro un solo dispositivo audio non due quindi la voce di fixer non c'è e io sembro uno stupido perché sto parlando da solo questo è l'unico problema che ci sarà negli altri due video di oggi il primo tutto a posto l'avete già visto e secondo me è una figata continuate a guardare anche questo video sino alla fine reaction al pass battaglia e reaction subito dopo alla mappa ragazzi preparatevi allora schieriamoci bene la voce fixer perché potremmo urlare per le skin per il pass battaglia e tutto io non mi sono ancora spoilerato nulla te l'ho detto ho giusto letto le patch note allora io teoricamente il volume l'avevo lasciato quindi clicco su battle royale tra 3, 2, 1 clicco ascoltiamo bene cerchiamo di capire bene che cosa sta per succedere un altro loading ancora infinito questo non mette neanche la barra di caricamento ah no adesso si sono mossi da me olè collect pass battaglia 50 stelle perché avevamo il vecchio ok 3 item collect and close vabbè lo guardiamo bene dopo ho sbloccato una roba di ragnaros ragnarok boh no non lo so non capisco ecco la presentazione del pass battaglia ok come funziona il pass battaglia lo sappiamo già questa skin della specie di stregona mi piace lo sai ok clicco back e vado in quella che secondo me sarà la lobby fixer è crashato non ci voglio credere fixer è crashato o ha spento il computer non lo so penso sia crashato sinceramente iniziare bene così è proprio fantastico giusto cioè nuova nuova connessione e tu eri disconnesso fantastico allora ah io non avevo ancora cliccato back beh questo ci dà la possibilità di fare una cosa andare a controllare i volumi infatti erano a zero perfetto back clicco sul replay cinematic è partito cavolo ho cliccato per sbaglio non sento più niente lo sto già guardando oh mio dio un secondo non sento più niente fixer è troppo alto troppo alto il volume finiamo di vedere il video oh mio dio non sento niente ho le cuffie troppo forti è vero che posso abbassare il volume adesso fantastico adesso ti sento oh mio dio ma lo stai guardando il video si no tu no che ok c'è qualcosa di interessante si molto figo molto molto figo claim sul battle pass lo dobbiamo cliccare ah c'è anche lo sconto sull'altro che poi cioè aspetta 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 costava 2500 costava hanno messo un finto sconto oddio ok prendo il battle pass normale questa volta battle pass upgrade next time vabbè tolgo questi ok dal livello 1 e questo è il pirata che si trasforma si figa l'ultimo non è 11 stili 11 ma questi che figo ma cambia completamente 9 10 11 ma stiamo scherzando si senza ombre di dubbio è grosso ma è molto più figo vediamo il ninja che cosa che ma stiamo ma non era un ninja e poi diventa blu e va fucsia è bruttissimo sinceramente ok la skin per le armi va bene ah carina la scia ma nulla di così tanto particolare esatto lo zaino è carino molto carino si numero 8 una mappa tutto useless vbugs musica spero sia tema pirata questo è un glider si è un glider è molto figo questo glider pagina 3 nuovi nuovi cuccioli che non hanno capito che nessuno li sta usando ok una sirena sicuro sono abbastanza sicuro che uscirà una skin sirena visto che ogni volta che mettono un di queste spray paint escono le skin in base scia che sono tipo ag backpack no cambia a seconda del reattivo cambia a seconda delle kill del tempo in partita figo ha le ceste aperte non l'ho letto oh mio dio questa è Indiana Jones al femminile senza ombre di dubbio pagina dopo bouncy ball tipo le palline rimbalzine che comprevamo le macchinette boh skin per le armi vediamo il ballo no no conga oh mio dio un ballo latino americano si una chiave che il cucciolo avesse di legno come balto nella stagione due stagioni fa adesso è di legno esatto questa scia è molto bella questa scia è molto bella il piccone è carino con serpente tutto tema serpente figo come si apre rispetto a tre gadget una roba del genere è reattivo ah no win non win lo blocchi con la vittoria non lo so non lo so bisogna provarlo ok pagina dopo balle varie un'altra skin per le armi questa sembra molto figa e poi siamo arrivati al livello 46 e 47 ok carina ci sta per trollare per trollare il ballino ci sta come fa varie cose e poi la banana reattiva fixer la banana reattiva cambia colore oh mio dio cambia colore durante il match oh mio dio un secondo che sto guardando il piccone e sono tutte reattive le skin di questo battle passi notato ok pagina 8 devo ridisabilitare la musica perchè è troppo fastidiosa e se ho ritornato alla pagina sbagliata scia lava hai detto eccola qui molto figa molto figa anche il wrap skin di serpente che poi è squale di drago l'ho visto prima di leggerlo e poi il ballo ok pagina 9 per favore pagina 9 ecco qua eccola qua la volpe è nera è molto meglio nera sinceramente ma non le userò comunque non è color volpe si è vero la skin è una bomba peccato che non si evolva è molto figa è un arciere è figo poi anche il suo sì è vero è un elfo il cuore rotto booty boy va bene stupendo il polpo stupendo pagina 11 ma cos'è quella skin all'87 che fa schifo è bellissima questa è bellissima che poi guarda nei piedi stanno ruotando i proiettili figo ah nelle mani non l'avevo notato ok vediamo questa skin ha vari stili mi immagino si sblocchi non si vedono può essere sì hai ragione perché c'è le chiavi nella cinturina ossia questa molto figa sì più che altro abbiamo già visto praticamente tutto il pirata era all'inizio cosa ci sarà alla fine pagina 12 star power l'hanno messa come team come base ah no non è che la spoilerata è quella che c'è al centro nel bottle no vabbè aspetta 95 con la mia skin è orrenda ho il tipo con la chiave in testa io ho il tipo grossissimo con la chiave in testa ti dico solo questo ok ultima pagina pronto vai è esattamente lei sblocchi la maschera a livello 99 figa anche il wrap gemstone molto figo mi piace un botto avrei messo il pirata più che altro devo ammettere che è la prima volta che mettono una femmina come ultimo tier ok io direi di fare una partita adesso questo video si ferma così e noi andiamo subito a fare una partita grazie a tutti